Ma a mio giudizio dovrebbe andare a fare la doccia E tu sei molto dispiaciuto di questa cosa Sono molto dispiaciuto, prego dammi il cappellino E tutto questo lo metto io Andiamo a fare la doccia Prego, si, vai, vai, aspetta, aspetta il microfono Bisogna, tocca farlo a me questo lavoro Eh si, guarda come sei dispiaciuto Spiace un attimo Fermo con quelle mani, ma cosa fai? Si brava, si brava un attimo Vai, prego Aspetta che adesso arriva il bello di questo gioco Aspetta un attimo Che cosa fai? Chiudi, chiudi Vai Vai sotto la doccia Paola, vai È calda Vai, vai Vai che il gioco va avanti Vai pure, vai paroletta Però con la camicia Eh no, con la camicia infatti non è il maschio Con la camicia non è il maschio Comunque va bene Si, così Così Ma cosa fai? Eh no, con la camicia non si vedeva Ti devo portare via